Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere il secondo passaggio del mio dipinto e spero vi riusciate a vederlo bene li avevo messo a fuoco ok niente, vi stavo dicendo, il secondo passaggio nel questo secondo video potete vedere che ho dato la prima stesura di colore e approssimativa, dico sempre la frase approssimativa per farvi capire che è una fase, come dice la parola, che non è a sguazzo però neanche troppo dettagliata quindi è un riempimento praticamente della tela un incarnato giusto così fatto al momento un po' il biondo dei capelli leggermente leggermente il maglione viola e uno sfondo celeste che non ho capito se è il proseguimento del maglione comunque adesso la prossima fase dobbiamo prendere un'area, tipo i capelli e proseguire con i capelli in modo dettagliato una zona per volta praticamente l'altra volta mi sono dimenticato di dire che quando si fa il disegno e si traccia il chiaroscuro con Bruno Van Dyck e la fase successiva del colore, del primo colore comunque bisognerebbe cancellare le zone scure, le zone d'ombra mentre si dà il colore perché almeno abbiamo le parti scure un po' visibili che ci aiutano a capire dove sono e senza cancellarle possiamo andare avanti e niente, per adesso è tutto la prossima sarà, come ho detto ci scegliamo una zona magari posso scegliermi i capelli o posso scegliermi un'area di 10 cm fatta bene e si prosegue piano piano con il dettaglio sempre di più fino a portarlo a termine niente, per adesso è tutto in questa seconda fase ti sentiamo alla terza e quarta fase quando il dipinto sarà concluso e farò il video della prossima fase per adesso è tutto mi raccomando iscrivetevi cliccate sul like se volete ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti, grazie a tutti ciao